Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana, una puntata dedicata alla convocazione d'urgenza della seduta all'interno della quale si è discusso del piano vaccinale con l'assessore alla Sanità Simone Bezzini chiamato a rispondere a diverse interrogazioni. Devo dire che è stata una seduta interessante perché ha avuto il vantaggio di una sollecitazione, di un confronto da parte di tutti, opposizioni, maggioranza, su una sfida che è la vera sfida contro la pandemia perché oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi direttamente o indirettamente a una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500 perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Quindi anche dal dibattito in Consiglio è venuto fuori quello che io continuamente mi sento di dire al Governo nazionale. Vaccini, vaccini, vaccini. Ponetevi il problema di arrivare a delle dosi di vaccino che vadano oltre quelle che sono state finora contrattate dall'Unione Europea per creare le condizioni di una vaccinazione più diffusa e comunque la Toscana con il suo più di 90% riesce oggi a offrire un vaccino a 260.000 persone nella nostra regione. Sono orgoglioso di presiedere questa assemblea legislativa, di vivere in una regione come la Toscana che meglio di altre è riuscita a fronteggiare questa situazione davvero difficile e che oggi è prima in Italia un 96% di somministrazioni, penso, di AstraZeneca. Noi stiamo facendo un lavoro enorme, organizzativamente importante, penso che sia giusto spiegare ai cittadini che il nostro compito non è quello di produrre i vaccini, il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi oggi con questa comunicazione e con la risoluzione collegata chiediamo al Governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus e noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250.000 di Pfizer, 100.000 di AstraZeneca, 50.000 di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400.000 dosi molto, molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. Mandiamo un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Capiamo la voglia di correre, la corsa al vaccino, però ci sarà per tutti, noi cercheremo di somministrarlo nel più breve tempo possibile e lo faremo partendo dalle categorie, come stiamo facendo fino ad ora, più fragili. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico. Eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultraottantenni e queste sono richieste che abbiamo avanzato, così come i volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati, tutti malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento, ma anche massima attenzione alla loro cura. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare, ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione, alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini, hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima. Con loro, che sono alcune categorie esemplificative, tutti i servizi essenziali e ovviamente le persone fragili. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo, i toscani saranno vaccinati fra oltre tre anni. La domanda è possiamo aspettare tre anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali. Dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini, ci dispiace, dateci il brevetto. Perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi, e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità, perché quei brevetti servono a salvare in un caso le vite e dall'altro anche la nostra economia. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al Presidente Gianni, oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno. Guardate, per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000. Pensate di quanto siamo indietro. Ecco, la Toscana e i Toscani non possono più aspettare. Per questo oggi abbiamo detto, se volete una mano, noi ci siamo. Se volete anche l'interlocuzione dei Ministri di Forza Italia, noi siamo a disposizione, ma non ci stiamo più a questo balletto in cui si racconta ai Toscani che va tutto bene. Noi abbiamo letto la comunicazione della Giunta che ci è stata inviata ieri, una comunicazione molto articolata, però a nostro avviso rimangono senza risposte molte domande che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali. ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del Commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose rimangono senza risposta, come ho fatto presente in Consiglio regionale. Per cui, a nostro parere, la relazione manca degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva, che non si capisce come funzioneranno perché non è indicato da nessuna parte nella relazione. Queste sono alcune, solo alcune delle criticità che abbiamo trovato nella relazione. Abbiamo fatto presente e spero che nella replica l'assessore ci dia le risposte. Fatto sta che oggi principalmente mancano i vaccini. Se la Regione Toscana farà valere la sua forza nelle sedi opportune per poter forzare i brevetti in modo da poter utilizzare quella clausola che permette in caso di pandemia e di emergenza sanitaria di fabbricare i vaccini in deroga ai brevetti, forse potremmo prevedere che in un futuro si arrivi anche a una produzione nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità. Noi pensiamo che non ci sia niente per cui essere entusiastico. Abbiamo sentito entusiasta l'assessore Bezzini quando ci ha detto che 250.000 toscani sono stati vaccinati. gli ha ricordato in aula che in Toscana ci sono 3.730.000 persone. Il fatto che ad oggi se ne sono vaccinate 250.000 non ci rasserena per nulla ma ci rende preoccupati. Per questo uno dei due atti che presentiamo oggi è la richiesta a Gianni di farsi promotore presso la conferenza Stato-Regioni di sospendere i brevetti, di espropriare i brevetti delle aziende farmaceutiche e titolari dei vaccini e di produrli in proprio, di farli produrre al tessuto industriale farmaceutico italiano e toscano che è all'avanguardia a livello internazionale. Sono spariti, guarda caso, le dosi di vaccini dal mercato europeo e sono comparse nel mercato statunitense dopo che Biden aveva appunto minacciato di fare un'operazione del genere. 250.000 toscani sono stati vaccinate ad oggi, non sono nemmeno il 10%. Noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio. Non è colpa della Regione Toscana, non è colpa dell'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa ci preoccupa. Vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia, la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Seconda cosa, a chi lo diamo? Noi non riteniamo che si debba aprire una gara tra lobby. Io sono un avvocato, la lobby degli avvocati, lo dico chiaramente, è riuscita a ottenere la vaccinazione per la propria categoria. Io non toglierò, nonostante che sia a favore dei vaccini, io non toglierò una dose di vaccino a un ammalato. Quindi non utilizzerò questa scorciatoia a disposizione degli avvocati. Pensiamo che ci debba essere una strategia ben precisa. Intanto dalla comunicazione che oggi l'assessore ha fatto, mi pare sia evidenziato che i compiti fondamentali che una Regione deve avere e deve svolgere rispetto al piano vaccinale sono stati svolti in maniera importante. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale. La Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti gli spoke organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario, che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca e abbiamo attivato per prima Regione la rete dei medici di medicina generale, che ricordo fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per anti-influenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Sul lato delle priorità abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo, abbiamo vaccinato tutti i sanitari, è importante che in un'epidemia quel sistema regga. Abbiamo vaccinato gli ospiti e gli operatori dell'RSA e la Toscana anche dell'RSD, cioè delle residenze sanitarie per i disabili, che sono state tutte vaccinate in Toscana. Noi chiediamo ora che si vaccinino fin da subito i caregiver e i familiari dei gravi disabili e delle persone estremamente fragili immediatamente con il vaccino AstraZeneca e che si anticipi alla prima fase insieme agli ottantenni anche le persone estremamente fragili. E infine abbiamo appoggiato la strategia del Presidente rispetto all'acquisizione di nuovi vaccini. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. È stato anche contestato il fatto che qualche altro Presidente di Regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita. E conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettate, aspettato che venga dall'alto. Ed è tutto. Questa era la nostra ultima intervista. Cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie.